Professore Caponnetto, siamo qui a Deci Trezza, tre giorni di appuntamento con il progetto Polifumo. Qual è l'attività che ha svolto il centro antifumo del Policlinico? Abbiamo cercato di aiutare i fumatori che fanno anche questa splendida attività, in questa splendida connici. Abbiamo visto che parecchi loro fumano e questo è molto strano perché chi fa sport non dovrebbe assolutamente fumare. Abbiamo fornito loro un coupon per una visita del credito presso il nostro centro e penso che molti ci verranno a trovare. Quali sono i risultati delle misurazioni sui sub fumatori? Generalmente quelli che fumano hanno delle performance un pochettino più scalente o fanno un pochettino più fatica. Ma al di là di tutto penso che loro qualità di vita possano sicuramente migliorare smettendo di fumare.